Musica Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Sport Inside. Inside, questa sera il presidente del Casalbordino, Vaccaro, che apre la puntata sempre per tenere banca la scaramanzia che sta portando però bene, e devo dire la verità, anche il gemellaggio con la mia Samp sembra procedere bene di pari passo. Il presidente lascio fare le presentazioni degli altri nostri due ospiti, uno firmato Casalbordino, l'altro invece. Buonasera e ringrazio il presidente del Fresa che oggi è venuto qua, Lino è venuto con noi e lo voglio ringraziare innanzitutto perché ieri sera dopo la partita ha fatto un qualcosa di incomiabile, parte la partita veramente una bella giornata di calcio. Però lui insieme a tutta quanta la dirigenza abbiamo passato il terzo tempo insieme, abbiamo bevuto e hanno offerto loro a noi tutti. Quindi va un applauso veramente grazie. Bravi perché questa è la parte bella dello sport e bisogna sottolineare la sportività insomma delle due squadre dopo aver fatto insomma guerra tra virgolette in campo. L'altro ospite invece. Invece l'altro ospite è Lombardozzi. Io lo faccio avvicinare qui perché subito lo farò parlare. Lombardozzi che ieri ha segnato il primo gol e quindi diciamo l'uomo inside. L'uomo inside che al posto di dire l'uomo scala però l'uomo inside. Però il sorrisetto del presidente è un po' cattivello nei confronti del presidente del Fresa. No, 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 assolutamente no. Perché comunque dice questo è l'uomo scala, l'uomo inside che ha fatto il gol e lo dice un po' però ce ne guantiamo, abbiamo vinto, che dobbiamo fare. Vabbè, ieri è stata una partita veramente penso una bella partita di calcio. Entrambe le società hanno espresso il loro miglior calcio e hanno veramente messo in difficoltà sia l'una che l'altra società. I mister hanno fatto un ottimo lavoro, hanno preparato bene la partita. Infatti è stata quasi una partita a cardiopalma in alcuni momenti. Quindi concisa veramente poi mi dispiace. L'uomo inside ha deciso. Allora chiediamo all'uomo inside. Il calcio è questo. Emozione di questo gol? Quando si fa un gol è sempre bello, però fare un gol che è anche decisivo forse è emozione doppia. Sì, è stato un gol per me molto importante anche perché segno molto raramente. No, niente, è stata proprio a Fresa. No, è stata una bellissima partita. Fresa si sapeva che era una squadra con tante aspettative, soprattutto in casa. Loro sono molto agguerriti. Presidente, Fresa era primo in classifica. Questo Casalbordino con la vittoria di ieri ha scippato. Insomma, è capolista adesso il Casalbordino. Diciamo che noi occasionalmente stavamo prima in classifica. Però comunque ci stavamo facendo quasi l'abitudine. Una volta che uno ci va, se lo fa la brucia. E' vero che si gioca per vincere, è vero che si gioca per divertimento, ma è anche vero che si gioca rispettando quelle che sono le condizioni essenziali del calcio. Prima di tutto la sportività. Noi siamo un gruppo molto molto affiatato. Il 95% del gruppo è del posto. Noi giochiamo con tutti i locali. Abbiamo qualche rinforzo esterno. Ma ne contiamo sul numero di due o tre. Quindi questa fa la nostra forza. E' il chievo del campionato di prima categoria. La squadra del Presidente. Considerate che il nostro paese, anche se non dista molto distante da vasto, conta solo poco più di mille abitanti. Quindi mettere insieme una squadra anche di un certo livello è importante. E noi portiamo 25 ragazzi tutti sul campo ad essere disponibili a farsi apprezzare anche dal pubblico locale. Chiaramente vengono ad applaudire i propri figli, i propri nipoti e i propri amici. Questa è occasione di sport. Cerchiamo di proseguire in questa strada e poi tutti i risultati che dovessero venire noi li raccogliamo. Sono buoni. Noi intanto siamo partiti forte. Quello che viene, viene. Siete partiti anche, forse, sull'onda dell'entusiasmo. Avete un pubblico che vi segue, perché è un paese piccolo, sì, però è seguita la squadra in casa. Così come anche il Casalbordino. Altra squadra molto, molto... Che ha un pubblico molto presente. Ce l'avevano detto. Un pubblico, tra parentesi, molto corretto. L'abbiamo potuto costruire lì di stesso. Tanto è vero che la partita è stata molto tirata. Eravamo lì per lì, diciamo che probabilmente il Presidente che almeno questo me lo deve passare. Non meritavamo di perdere. Però, come si può dire, il pallone non è tono. Il pallone è infatti. Voglio dire, abbiamo avuto noi la sfortuna di perdere. Ma, comunque, quello che interessa è che abbiamo fatto bene. A noi interessa, diciamo, far divertire tutti i ragazzi del posto, far divertire il pubblico. E avere come punto di riferimento un principio molto importante. È meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Quindi, il nostro obiettivo è questo. Dare questo insegnamento ai bambini, perché abbiamo veramente tanti bambini che ci seguono. Ieri hanno potuto buscatare. Una bella cosa, veramente. Questo in campo è stato fatto con circa 30 bambini che giocano al calcio. Abbiamo quattro squadre giovani. Pensate, un paese di migliaia di anni. Fare questi esplai non è così. Non è da tutti, certo. Quindi ci stanno sottolineando. E noi vogliamo dare questo indirizzo ai ragazzi. Ed è bello perché queste sono le cose che in primis andrebbero insegnate, soprattutto ai settori giovanili e bambini. E non, come tante volte si vede, e poi ne parleremo anche nei campionati juniors, gli viene prima insegnato dai una gomitata o batti quello fuori. E i giocatori a volte istigano i genitori da fuori che magari insegnare dei veri valori dello sport. Posso dare una piccola, diciamo, espressione di quello. Noi abbiamo un allenatore che è incomiabile, che fa il settore giovanile. A un punto, diciamo, fermo nel suo, diciamo, insegnamento ai ragazzi. Lui dice, quando voi tornate a casa, se un genitore vi dice che cosa avete fatto, hanno sbagliato tutto. Perché vuole significare che è solo il risultato. Mentre il vostro genitore vi deve dire come avete giocato, come hai giocato. E questo è importante. Quindi dare quell'insegnamento e poi man mano, man mano, arriverà tutto il resto. Sono insegnamenti, lo chiediamo all'uomo inside, che ha dato anche Carbonelli e dà comunque anche il vostro mister. Quindi Carbonelli, prima di essere un grande allenatore, è una grande persona. Lo sento come noi, in mezzo ai giocatori. Si sa molto... Insieme a noi è come un giocatore per noi. E quindi ci sa fare, ci sa parlare, ci sa prendere. Anche gli allenamenti è molto calmo. Peccato perché il presidente è un po' antipatico. Ci trasmette tanta tranquillità. È vero. Invece questo presidente che è il primo tifoso ed è anche... Mette abbastanza serenità, ci dicevano anche gli altri dirigenti. Che gli hanno dedicato anche una fotografia sui social network. Perché ricordiamo che c'è la pagina APD Casalbordino, no? C'è la pagina, sì, sì. Si chiamava come se c'è una pagina su Facebook e lì scrive il presidente. È un grande, è una più grande persona, è molto buona, ci trasmette tanta tranquillità. Tra gli spogliatoi, quella che a volte, soprattutto le squadre come la nostra, manca. Poi per le molte pressioni che abbiamo intorno e comunque per i risultati da domenica quando non vengono. È sempre brutto, specialmente in queste categorie. Anche perché, presidente, quando si inizia a vincere o si fanno proclami iniziali, poi di solito è più difficile dire ho perso e non ho raggiunto l'obiettivo. Vabbè, è normale che, come diceva Simone, le aspettative sono tante. Però è anche vero che la forza di questo gruppo non sta né nel presidente, ma sta soprattutto in uno staff e in un gruppo di presidenti, perché veramente ne siamo tanti, ma siamo tutti concisi, tutti quanti uniti nello stesso obiettivo. E poi permettetemi di fare un plauso ai mister, perché noi ne abbiamo tre mister. E nominiamoli tutti e tre. Ne abbiamo tutti e tre. Innanzitutto, non per importanza, però voglio ringraziare Loris Carbonelli, che questa settimana ha gestito benissimo questa partita, perché sapevamo di andare incontro a un avversario veramente ostico. Il secondo è il preparatore dei portieri, Pierluigi Sallese, che sta facendo un ottimo lavoro. Del resto il mister sta gestendo tutti e due i portieri e stanno dando tutte e due risposte sempre, ogni partita. E poi c'è il tazzo, a cui io voglio fare gli auguri, perché oggi fa il compleanno. Allora, auguri da tutta la redazione. Auguri a mister Picciotti, che stanno festeggiando, perché lui è il mister della Juniores. Auguri per il compleanno, auguri per la prima posizione anche nel campionato Juniores. Lo vogliamo sottolineare, al presente escono i sorrisi quando parla delle vittorie. Quando anche la Juniores è prima in classifica a punteggio pieno, una vittoria sofferta, vengo proprio da là, 2 a 1 in 9. Quindi veramente una grande prova per il mister e per tutti quanti i ragazzi che sono stati fenomenali. Questa Juniores che fa abbastanza sudare quest'anno il presidente, così come ha fatto sudare la partita di Coppa, che ricordiamo nella settimana sono partite un po' accese, dove siete usciti un po' ammaccati, diciamo così, per passarla gentilmente. Sì, sì, sono partite molto sentite anche dagli avversari, quindi magari si eccede un pochino nell'entusiasmo e purtroppo magari si tende un pochino a esagerare. Qui torniamo al discorso che faceva il presidente del FESA, che bisogna comunque far partecipare anche nel modo giusto i genitori. Cioè magari a volte anche dagli spalti stessi abbiamo letto una notizia proprio di questi giorni che un genitore è sceso in campo e ha menato insomma ai ragazzini che non giocavano bene. Non mi sembra che sia un ottimo esempio sportivo questo, per farlo crescere in maniera corretta. Ieri la cosa bellissima che stava dicendo prima il presidente, io mi sono soffermato a vedere quei ragazzi che giocavano a bordo campo, che esprimevano quella gioia, quella vitalità, per loro il calcio giocato non c'è la vittoria, per loro è divertirsi e correre intorno a un pallone, quei valori che devono rimanere anche nelle categorie superiori. Se si mantiene quei valori dentro sicuramente si può lavorare con tutti. Quando poi subentrano altre cose, si perde un po' il valore del calcio. I tifosi, altra parte essenziale, ne ha e ha tante famiglie. Il Frese va fatto un plauso perché anche Vasto ha cercato in tanti modi di far riavvicinare le famiglie e non sempre avviene, non sempre è semplice. Come però influiscono sui giocatori? L'abbiamo chiesto l'altra volta al portiere, io non mi sono dimenticata, il portiere aveva accennato un coro che gli era stato fatto dai tifosi. Avevamo chiesto anche di creare un coro sul presidente, è stato fatto questo dai tifosi? Non ancora. Allora chiameremo poi tutta la squadra a cantare insieme sotto Natale il coro per il presidente. Verso voi giocatori, questi tifosi vi stanno seguendo un po' ovunque, vi fanno sentire sempre il calore. La cosa più importante è che tutti i club sottolineano come ci sia correttezza in questo caso. Sì, sono delle grandi persone, non sono tifosi violenti, sono persone che incitano proprio la squadra senza nessuna violenza. Quindi ogni domenica ci fanno sentire a casa e ci seguono dappertutto ormai, da Presa, da Caspina Alveti, sopondi ovunque. Nel terzo tempo ti hanno tolto il mangiare perché comunque eri quello che aveva segnato, no, ti hanno fatto mangiare lo stesso. La massima sportività, la parte di Presa, le persone... Ottimo, quindi correttissimo anche il presidente. La prossima partita, presidente, adesso siete comunque scesi ma non di tantissimo in classifica. Voi puntate comunque, come abbiamo già detto, a fare il meglio possibile in questo campionato. Come la state preparando e come la affronterete? Oddio, il nostro intento è quello di fare, come hai ben sottolineato, di fare il meglio possibile. Questo è per dare soddisfazione a noi tutti principalmente e per dare un segnale più forte perché a volte c'è un po' di rilassismo nel senso che molte realtà pensano di non poter raggiungere certi obiettivi. Questo può fare decadere alcune aspettative. Noi abbiamo cercato di imporci degli obiettivi e probabilmente non ci fermeremo qui. Casalbordino invece, prossimo match? Prossimo match in casa. E quindi in casa vale il detto... Non si passa. In casa non si passa. Contro il Paglieta e quindi domenica... Paglieta anche quasi un derby. Beh sì. Ormai qui sono tutti quasi. Sono quasi tutti derby. Domenica mi raccomando tutti allo stadio a rifare Casalbordino e a sostenere la nostra squadra. Un'altra rivale vostra che è invece l'incoronata a calcio non è riuscita insomma a prendere i tre punti nella partita. Contro di voi Presidente avevano fatto una gran partita quelli dell'incoronata. Come vede l'incoronata il Presidente del Casalbordino e poi chiediamo anche al Presidente del Fresa? Beh l'incoronata di Mister Mucci. Può riprendersi e dar fastidio? Mister Mucci. Teniamo a precisare Mister Mucci, un amico, abbiamo fatto il corso insieme quindi ci conosciamo bene. Spesso vincente Mister Mucci, dalle donne fino ai maschi. Sì, e beh sicuramente è una squadra molto insidiosa. Stavo dicendo inside. Molto insidiosa. In inside abbiamo solo l'uomo inside. Molto insidiosa. Una squadra sicuramente da temere. In casa abbiamo visto che fa sempre dei bei risultati. Anche con la Spallangiano da cui mi raccontavano. Ho visto io comunque anche lì si potevano giocare la vittoria. Sono stati sfortunati. Quindi una società che sta facendo bene e che sicuramente è ostica. Ma come dicevo l'altra volta non ci sono squadre facili in questo campionato. E lo si vede ogni domenica. Lo si vede dai risultati. Non c'è quella squadra che parte qualche occasione che può succedere. Però sono tutte partite in un certo livello. E comunque giocate domenica da domenica. Sarebbe bello poter fare un terzo tempo ogni domenica. Diventereste un po' stile rugby. E noi salutiamo anche gli amici del rugby vasso. Che sono famosissimi. Più che per i risultati in questo periodo. Perché si stanno ancora rodando in questi anni. E già fanno tanti sacrifici. Per il loro terzo tempo. Poi in tutto l'Abruzzo e in tutta l'Italia. Perché riescono comunque ad essere amici anche nei post partita. Io il terzo tempo ne faccio molti. Dice vedi? Io sono sempre pronto a fare il terzo tempo. Sono sempre pronto a fare il terzo tempo. Quindi rimango sempre. E giocatori penso lo stesso. Presidente del Frenet invece vogliamo chiedere. La squadra che secondo il presidente. Valcaro ha detto non ci sono squadre a mazzo campionato. Sono tutte combattute. Secondo te invece la squadra che potrebbe dar fastidio. Magari oltre al Casalbordino. Noi abbiamo ormai dopo 6-7 partite che abbiamo fatto abbiamo già qualche orientamento. Voglio dire le squadre che secondo me sono molto più attrezzate per aspirare alla vittoria finale. Oltre al Casalbordino dell'Amico e c'è anche probabilmente anche Palombaro che abbiamo visto. Noi siamo riusciti a batterle. Però come probabilmente siamo riusciti a batterle con un pochettino di fortuna. Perché anche lì la partita poteva esserci benissimo il pareggio. Ieri per esempio la partita da pareggio l'abbiamo persa. E' andata e il calcio non è mai niente di scritto. Quindi ecco che il calcio comunque alla fine compensa sempre. E quindi secondo me sono al momento quelle che io posso giudicare le squadre che sono che possono andare un pochettino più avanti rispetto a... Io voglio sottolineare una cosa al Presidente. Questa settimana avete vinto nonostante la non telefonata scala amantica di Fornà. Quindi io mi farei ridare 20 euro della ricarica indietro. Ma questa settimana ha segnato con gli amatori. E quindi ha scaricato tutte le energie lì. Perché ricordiamo il Presidente. Parliamo allora anche del campionato amatori. Come sta andando la scuola del Presidente e del nostro collega Fornaro? Parliamo di questi amatori che stentano un pochino a decollare. Con questi non ce ne può parlare benissimo. Però 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 sabato abbiamo fatto una grande prestazione in casa con lo scerni che era prima in classifica e abbiamo in vantaggio 2 a 1. Poi anche lì abbiamo peccato un po' la stanchezza. Ecco lo scerni è brutto eh. Vi siete ripresi. Vi hanno rifatto quello che vi siete presi con il Casa Alborino. Il Casa Alborino prima squadra. E comunque sono un punticino d'oro perché comunque ci siamo tolti dalla bassa classifica e quindi diciamo che sta cominciando a ruotare. Sicuramente sabato prossimo faremo meglio. Si parla di tutt'altro tipo di classifica quindi qui rispetto alle zone alte. Ma i giocatori sono andati mai a vedere il presidente? Ma vabbè che fa spesso panchina mi viene a me all'orecchio il presidente per dargli dei consigli. Il presidente una volta si allena anche con noi e il tocco ce l'ha, si vede. Vabbè se no viene cacciato dalla squadra. Io non so se queste affermazioni sono verite. Mettiamo la macchina della verità la prossima volta. Spontaneo proprio, sta spontaneo. Se diceva ma gioca così così. Devo dire che allenarsi con una squadra così ben attrezzata, prendere dieci palloni e metterne due dentro è facile. Voglio dire è facile. No no no. Però quindi il presidente può dare la sua mano a questa squadra. Quindi noi incitiamo, c'è un mister presidente nella squadra Amatori, noi incitiamo il mister a mettere in campo anche la punta di Diamante che finora è rimasta un po' coperta, lì in panchina, relegata in panchina. Sono infortunato. Purtroppo Pupalgia che sta guarendo, sta guarendo. Guarirà a fine campionato. Guarirà, guarirà, sono convinto già. A fine campionato andrà sicuramente meglio. Andrà sicuramente meglio, sì. Mi permetti di poter fare dei ringraziamenti. Certo. Io voglio ringraziare i ragazzi che stanno sicuramente tutti in sede a festeggiare. Volevo ringraziare Alessandro Santoro che è il cuore della squadra. E' colui che ci mette in cuore. Che gestisce anche insieme al presidente la pagina Facebook. Ma beh, insieme a me poi c'è anche Simone Troiano, Zini Feliciano. E vorrei fare anche un applauso a Simone Troiano che oggi è sicuramente il merito di un mister picciotti. Però lui quest'estate ha fatto un grande lavoro e ne stanno scendendo i frutti. Quindi veramente grazie a tutta la dirigenza, a tutti i ragazzi. Noi abbiamo dei segreti. E le sveleremo. Hanno dei segreti. Allora, fine campionato. No, no, no. Il primo sveleremo a dicembre. Ah, ok. Sotto Natale sono tutti più buoni. Sveleremo uno dei segreti. Abbiamo tanti segreti che sveleremo piano piano. Il Fresa ha i segreti? Ma cerchiamo di essere molto più espliciti. Molto più... Sono più espliciti. Loro hanno meno scaramanzie. E' meno scaramanzie. Io qui però penso che sono stati fatti tutti questi ringraziamenti. Perché non vorrei che poi deva andare anche a cena anche il presidente e dice magari poi non mi trattano bene come dovrebbero. Potrebbe essere. No, no, no. Siete un buon gruppo. Siamo un buon gruppo e la forza è proprio quella. Siamo un grande... E' veramente stato creato qualcosa di eccezionale. Al di là dei risultati, quello che c'è nel gruppo, nella società, tra i dirigenti e tra i giocatori. Juniors, veramente è una bella cosa. Poi... Quel che verrà, verrà. Adesso ho compiato un po' al presidente del Fresa, lo stil. Chiediamo invece i saluti finali, li facciamo fare, almeno di questa parte dedicata alla prima categoria. Anche all'uomo inside lasciamo fare dei ringraziamenti o dei saluti speciali. Io saluto saluto i miei compagni di squadra, che sono le persone che condividono tutte le giornate, le allenamenti, la domenica, le sofferenze. A loro devo tanto, che mi fanno crescere, soprattutto ai veterani, ai veterani più grandi. E niente, il presidente ci mette tanto, tanto cuore. Vabbè, per il momento, insomma, non lo bocciamo. Per noi è sì, facciamo andare avanti. Non abbiamo dato il no, eh? Per questa volta facciamo andare. Saluti invece del presidente del Fresa. Beh, io voglio fare saluti un po' a tutti quanti. In particolare al nostro mister, che deve gestire una situazione molto, molto importante, si chiama Stella Olivio. In riferimento a quello che è il nostro, diciamo, obiettivo. Si sente? Ah, ok, 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 vai. Siccome abbiamo, far giocare tutti coloro del posto, è difficile sentire poi chi può essere messo da parte, quindi gestire una situazione molto importante. E quindi vi voglio fare i complimenti, perché per il momento ci sta riuscendo egregiamente. Quindi io invece ringrazio, come sempre, tutti e due i presidenti, sia del Freda, il presidente del Cardalbordino, ormai veterano, e speriamo anche che nella prossima ci abbiamo da scomicciare il Milan, noi. Voi avete il Paglietano, il Milan, insomma, siamo messi bene, vediamo e vedete di far risultato, perché se no mi si incrina anche la Samp. Ringrazio l'uomo inside che è venuto qui con noi, lo rinvito insieme anche al presidente del Presa, quando vorrà venire a riparlare della sua squadra, che in trasmissione anche con i bambini o i settori giovanini, sia dell'una che dell'altra squadra. Ci farebbe molto piacere. Grazie allora a tutti e tre i nostri ospiti, chiedo a Gabri di mandare gli stacchetti in pausa e poi tornare in studio. Grazie a tutti. Torniamo in studio e parliamo invece più da vicino delle altre squadre del campionato di eccellenza che ci riguardano più da vicino, quindi Vastese, Vasto Marina, San Salvo e Cupello. Non è stata di certo una buona domenica per il Cupello che dopo la parentesi positiva della scorsa partita non è riuscita a replicare e ha perso clamorosamente 5-1 in casa. La rete del Cupello della squadra di Di Francesco è stata messa a segno dal difensore Vincenzo Benedetti, una prestazione che sicuramente non è piaciuta neanche al presidente della squadra che ha considerato un passo avanti e due indietro tutte le volte. Cupello che si trova impelagato nella parte bassa della classifica, una situazione non di certo idilliaca per il momento, quella che sta passando la squadra rosso-blu del presidente. Una situazione completamente diversa invece è quella del Vasto Marina che ieri è riuscita a conquistare tre punti importantissimi alla Ragona contro il Miglianico. Miglianico che in altre occasioni aveva sfoderato delle prestazioni migliori rispetto a quella che hanno fatto vedere ieri sul campo contro Giuliano e compagni. Vasto Marina che invece dopo essere passato in svantaggio ma in modo sfortunato in quanto c'è stata una papera del portiere classe 94 che ha consentito all'attaccante del Miglianico di andare in rete. È riuscito però la squadra allenata da mister Pazienza comunque a rimontare lo svantaggio e addirittura passare in vantaggio nel finale con Cato Arozzolo dopo il gol che aveva firmato del pareggio Camara. Tre punti come ha sottolineato a fine partita uno dei veterani della squadra Nando Giuliano importantissimi importantissimi per la classifica, importanti perché contro una delle dirette concorrenti quest'anno anche per la salvezza. Miglianico che per il momento staziona nella classifica, nella parte media della classifica. Vasto Marina che ha recuperato punti importanti appunto sulle squadre di medio-bassa classifica e classifica media che purtroppo invece ha anche la Vastese 1902. Vastese 1902 che era partita sicuramente con altri obiettivi ad inizio campionato si sperava in un campionato diverso che potesse dare soddisfazione ai tifosi quello di cui parlano e parlano tutt'oggi in società è quello di raggiungere l'obiettivo di raggiungere una posizione playoff, posizione playoff che al momento appare ancora possibile in quanto la classifica è molto corta, non ci sono delle squadre che ammazzano il campionato, stanno andando bene, San Salvo, Pineto e altri in testa la classifica ma tutto è ancora da vedere. Vastese che purtroppo nelle ultime partite non ha brillato, non ha raccolto come dicevano spesso l'ha detto Stampa e altri giocatori come Leo e Bonuso venuti in qui studio ma sta cercando di riprendersi quello che le è stato tolto un po' per delle decisioni arbitrali che sono state criticate un po' per la sfortuna e ha iniziato a farlo con un pareggio ieri fuori casa, pareggio che comunque è da considerare buono vista la trasferta e un pareggio da cui ripartire per la sfida di domenica proprio contro il Cupello, quindi una sorta di derby domenica contro il Cupello in casa tutte e due le squadre devono cercare di fare risultato sia la Vastese all'Aragona che il Cupello che esce ormai sconfitto 5-1 da questa domenica sarà una partita sicuramente avvincente e con tanti ex, infatti nel Cupello ci sono per nominarne solo alcuni, avvantaggiato, Daniele avvantaggiato a centro campo e Vincenzo Benedetti in difesa ma anche un Martelli che aveva giocato nella squadra la Vastese che sono ex della formazione. In questo caso sarà una partita combattutissima, la Vastese ha bisogno di far punti non solo con il Cupello, è stato sottolineato anche ieri a fine partita, le prossime partite andranno combattute tutte sempre col solito spirito cercando di riportare a casa più punti possibili. Chi naviga invece in acque migliori e sicuramente se le sta godendo in questo momento è il San Salvo di Mister Gallicchio un San Salvo che è andato a vincere in casa della ex capolista Pineto una grandissima prestazione in cui si era sbloccato in settimana l'attaccante Antenucci e è riuscito a continuare quindi a mettere dentro la palla e a segnare cosa di cui era abituato a fare Antenucci ha fatto una doppietta ieri proprio contro il Pineto primo gol d'applausi sul colpo di tacco, secondo gol in cui è partito da centrocampo ha saltato il portiere di Blandolo e l'ha insaccata altra rete invece la seconda quella di Marinelli Marinelli che ormai va a segno quasi tutte le domeniche un inizio campionato strepitoso per il bomber del San Salvo Marinelli che è riuscito a realizzare il gol sul rigore calcio di rigore e poi infortunio invece al giocatore che ha dovuto lasciare il campo addirittura in barella e recarsi all'ospedale di Vasto il giocatore è svenuto per una botta ricevuta in testa ricordiamo non è la prima di questo campionato ce n'era stata già una proprio contro il cupello di mister Di Francesco Marinelli che ha dovuto ricorrere alle cure mediche per un taglio e gli sono stati comunque messi dei punti quindi buona guarigione a uno dei giocatori che è stato poi anche un nostro co-conduttore del programma per i mondiali San Salvo che però ha nel gruppo il suo valore aggiunto è stato sottolineato ieri a fine partita da Meuccio Di Santo come un plauso vada fatto a tutta la squadra da Triglione a Izzi al portiere Cattenari tutti quanti hanno giocato un'ottima partita hanno messo in campo quello che gli era stato chiesto da mister Gallicchio mister Gallicchio che ha preparato al meglio la partita c'è stata solo una squadra dominata la partita per 90 minuti e si può dire quindi primato, tre punti, primato conquistato dall'US San Salvo al momento meritatamente un San Salvo che ha la sua forza non solo anche nel presidente o comunque nello spirito di gruppo presidenti, dirigenti, sponsor che hanno viaggiato tutti ieri un po' per scaramanzia ed un po' per stare comunque vicino alla squadra e vivere l'atmosfera proprio sul pullman dei giocatori stessi non è andata invece benissimo all'incoronata come dicevamo prima con il presidente del Casalbordino è andata bene invece al Montalfano Montalfano guidato dal vastese Antonio Liberatore Montalfano primo in classifica indiscussa indiscusso il primato della squadra in quanto su sette partite sono riusciti a fare a collezionare sette vittorie un'altra vittoria importante che li fa restare lì in cima alla classifica in attesa comunque da quel che dice il direttore sportivo della prossima partita che si preannuncia sofferta ma questi sono campionati dove logicamente come ci sottolineavano anche i presidenti di Casalbordino e Fresa le partite sono tutte combattute non naviga invece in buone acque e qui parliamo di tutt'altro sport il basket vastese basket vastese che non è riuscito neanche ieri a fare il risultato in un derby contro il Pescara il vasso che in questo momento noi ricordiamo forse le imprese dello scorso anno e non è neanche giusto magari fare dei parallelismi l'avevamo detto anche in trasmissione con uno dei giocatori non sarà facile ripetere quello che è stato costruito con grande fatica anche e entusiasmo lo scorso anno inizio di campionato sicuramente in salita per il roster allenato da coach Di Salvatore un roster che noi speriamo riesca a fare sempre meglio sperando che i risultati arrivino per questa squadra che sta portando il nome di vasto comunque in giro per l'Italia tante le trasferte insidiose tante anche lontanissime quindi un in bocca al lupo alla squadra del presidente Spadaccini bellissima vittoria parlando invece di calcio ma questa volta al femminile della San Paolo calcio femminile della Provasso scusate femminile una squadra che è stata ricostruita anche quest'anno sono arrivati diversi elementi importanti dall'Ortona anche da fuori regione da Termoli da Lanciano ad migliorare la squadra una squadra che ieri nella prima di campionato dopo aver fatto vedere cose brillanti già nelle partite di Coppa Abruzzo è riuscita ad imporsi con un risultato netto quattro gol del bomber Martina Di Viesti che noi salutiamo in quanto amica di Sport Inside una formazione quindi affidata a Migliaccio Di Martino che sta producendo frutti così come spesso producono frutti anche le formazioni del mister Di Martino una squadra invece che ha perso nonostante abbia giocato e disputato un ottimo match è quella del Vasto Rugby settimana scorsa abbiamo avuto Massimiliano Donofrio qui in studio con noi Massimiliano Donofrio che ha parlato delle difficoltà che sta incontrando la squadra sia per allenarsi in quanto i campi che avevano a disposizione in questo momento sono sfruttati anche da altre società anche calcissiche in quanto devono finire i lavori di ristrutturazione del Bucci e di Via Singi è un vasto basket che trova difficoltà anche magari ad avere finanziamenti o a trovare dei supporti giocatori che spesso si avvicinano è una squadra che viene seguita ogni volta in casa da tantissime persone e questo gli fa grande onore quindi va fatto un plauso a questi ragazzi e alla società ma che non riescono per ora a trovare risultati positivi speravano di farlo nel derby contro il Chieti Chieti che però ha stupito un po' tutti presentandosi con due o tre veterani della squadra che il mister era andato a visionare tempo addietro in altre partite contro il Teramo invece tutti altri elementi presi dal settore giovanile un settore giovanile che è tra i migliori in questo momento non solo in Abruzzo ma addirittura in Italia e che quindi ha fatto la differenza e non poco persone che addirittura hanno usato a volte anche metodi un po' forti una partita in cui non ci si aspettava di vedere in campo determinati elementi che ha sorpreso un po' tutti Vasso che aveva comunque disputato un'ottima partita fino a fine primo tempo 0 a 0 sono riusciti comunque a fare un bellissimo risultato uno spazio e poi torniamo in studio un'ottima partita un'ottima partita stavamo parlando quindi del Vasso del Vasso Rugby Vasso Rugby che non ha fatto insomma non è riuscito a vincere in questo derby contro i Chieti erano tornati anche dei giocatori da fuori per dare manforte alla squadra del presidente del tutto fare allenatore Massimiliano Donofrio non sono riusciti ad avere la meglio è rimasta un po' di amarezza ma soprattutto perché loro si aspettavano degli avversari differenti una partita che comunque li ha visti i protagonisti perché fino alla fine del primo tempo il match era in parità dopo c'è stato spazio per delle mete una addirittura concessa al Chieti e non validissima mete che hanno un po' tagliato le gambe ai vassesi che però hanno cercato di reagire in ogni modo un infortunio anche un brutto colpo subito anche dal figlio proprio del mister Pierangelo Donofrio non sanzionato spesso dall'arbitro una partita in salita che però sottolineava il mister è stata comunque giocata al meglio dei suoi ragazzi i suoi ragazzi a cui non poteva chiedere di più non poteva chiedere di meglio contro una formazione che ha messo in campo degli elementi delle giovanili di tutto rispetto giovanili che probabilmente avrebbero vinto anche contro società fortissime che aveva già incontrato il basso come Sulmona o come l'Aquila stessa nel rugby conta tantissimo gli elementi quanti elementi di spessore vengono messi in questa serie C quindi in questo caso c'è un po' di rammarico ma sicuramente sappiamo che la squadra di Massimiliano Donofrio si rifarà al ritorno contro i cugini e nemici del Chieti noi chiudiamo qui ma prima di chiudere dobbiamo fare un plauso l'ennesima volta alla Podistica Vasto Podistica Vasto che con Zuzù quindi Nicolino Catalano è riuscita a portare a termine la Maratona di New York che è una delle competizioni più ambite in ambito sportivo e proprio della Podistica nell'ambito della corsa un applauso quindi a lui e anche agli altri corridori della Podistica Vasto che hanno brillato e si sono distinti nella corsa dei Santi che si è disputata a Roma Podistica che si sta dando tantissimo da fare ricordiamo nel fine settimana ci sarà l'ultima tappa del Corri Labruzzo stagione agonistica che sta volgendo al termine e stagione agonistica che volge al termine nel migliore dei modi proprio con questi ultimi successi che avevamo un po' accennato di Zuzù del tifoso quindi Podista Ultra e degli altri nella Maratona di Roma chiediamo e speriamo al presidente Altieri ci porti qui proprio Nicolino Catalano che è stato protagonista nella Maratona di New York e noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con Sport Inside alle 20.30 grazie e buon proseguimento di programmi con Agora Music TV a lunedì prossimo tutti comanzi